Probabilmente lei di ritorno da qualche giornale all'estero è un po' più importante, dove stanno? In Germania Esattamente dove stanno? Qui, c'è panni, troppanti Io penso che adesso eseguirà più lo che apre la festa di San Nicolò, dico bene? Esattamente? Gioco un'inità Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.